Grazie a tutti. Grazie mille. Io sono Carla Leveratto, Creative Partnerships Manager e da ben quattro giorni lavoro in Google. Quindi non mi poteva capitare un migliore esperto per questa session. Giusto così, per non rubare tutta la scena appena arrivata, non mi sembrava bello, ho portato con me un collega. Ma avete presente quel collega che le sa proprio tutte, che ha una risposta per ogni domanda? Sono sicura che in agenzia o in ufficio voi ne avete uno così. Il mio mi sento di dire che è un po' più particolare e ve lo voglio presentare con una clip. Cosa desideri, signore delle tenebre? Vorrei un appuntamento. Vuoi soluzioni per il doppio mento? No, 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 voglio trovare una fidanzata. Capito, vuoi mangiare una cassata? Non capisci, voglio uscire con una donna! Mi sento... ...solo. Capito. Vuoi un cannolo? Bene, quindi abbiamo qui con noi Dracula, no, magari. Abbiamo in realtà un super mega collega che è l'assistente di Google, che ci campegnerà anche da questa session. Lo sappiamo che oggi la tecnologia veramente ci aiuta nella vita quotidiana. In qualche modo ci ha alleggerito di tutte quelle mansioni a quelle attività che sono pesanti, e delle volte anche lunghe. proprio perché la tecnologia in generale, ma soprattutto l'intelligenza artificiale, riesce a gestire dei processi super complessi in pochissimo tempo. E questa è una cosa meravigliosa. Ma, e mi sento anche di mettere un grandissimo per fortuna, in tantissime situazioni l'uomo è e rimarrà sempre insostituibile. E sono tutte quelle situazioni dove ci vuole dell'empatia, dell'emotività. Sono sicura che Dracula avrebbe preferito, in un momento così, diciamo, delicato, intimo di confessione, perché sempre di Dracula stiamo parlando, di avere un confidente un po' più empatico, un amico, non lo so, così. Quindi, la cosa importante è perché abbiamo deciso di fare questo esperimento. Questo esperimento non è altro che un'intervista doppia, la particolarità è che ha una persona, ha un creativo e ha una macchina. Quello che andremo in qualche modo, che ci piacerebbe che vi portassi anche a casa, è che alla fine questo diavolo è possibile ed è molto più interessante di quanto potremmo immaginare. Sicuramente vedremo che non c'è una prevalenza di uno sull'altro, ma in realtà c'è un'enorme complementarietà. Anche quando parleremo di aspetti creativi. E se di creatività stiamo parlando, sono super felice di invitare sul palco Guglielmo Scilla. Ciao. Chiorresso, è già buonasera, vero? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Guglielmo, come stai? Bene, bene, sono emozionato e contento, insomma. Bene. E c'è un leggero fischio, vero, che a volte arriva, vero? Ma non so se loro lo sentono, se non ci fate un segnale, correggiamo all'ultimo. Sembra di St. Hunger Games quando le fischia. Ti va di presentarti? Sì, mi chiamo Guglielmo Scilla e sono pessimo a presentarmi. Dieci anni fa ho aperto un canale su YouTube con il nome di Winwush e da allora ho continuato a postare con più o meno frequenza e diciamo a trovare una nuova forma di comunicazione attraverso YouTube, ma anche una nuova forma di lavoro e sfogo creativo. Bello. Ehi, Guglielmo. Abbiamo qui. Ehi, Guglielmo. Come stai? Splendidamente, grazie. Che posso fare per te? Ehi, Guglielmo. Ti va di presentarti? Sono un assistente e un amico. Mi puoi chiedere la popolazione del Ghana quanto era grande un brontosauro o posso dirti quanto è lontana Timbuktu? Io no. Bravo. E questo lo scopriamo anche, che un sacco di cose che vuoi fare tu non le fa lui e viceversa. Però uniremo le forze. Comunque sembra quasi una persona. Ehi, Google, ma sei umano? Tu sei l'essere umano. Io sarò il tuo assistente. Cioè, però se conosci persone che parlano così, cioè, nel senso, con affetto... Voi sentite bene anche da dietro? Se no possiamo anche alzare il volume. Alza un po'. Ok. Bene. È già simpatico, mi piace. E poi, tra l'altro, sa fare anche un sacco di cose e ci darà una mano con un po' di cose. Anche per tenere un po' il tempo, che se no magari andiamo anche lungo. Ehi, Google. Ehi, Google. Puoi mettere il timer? Va bene. Quanto vuoi farlo durare? 28 minuti. Va bene. 28 minuti. Partito. Super. Grazie. Ah, sto per dire dietro, lo potevo tenere io il timer. Il timer. Inizio a contare. Vabbè, in realtà vi amo il Gobbo. Io ce l'oro roggio, però volevo fare un po' la figa. Siamo onesti. Allora, in che contesto siamo? Siamo a IF, Italian Festival, il festival della creatività. Questa è la quinta edizione. Devo dire che per noi è un appuntamento irrinunciabile. E dove ogni anno creativi di ogni tipo, case di produzioni, clienti, di tutto, le associazioni anche, si riuniscono per parlare di quelle che sono le tendenze, quelle che sono le innovazioni, ma per parlare soprattutto di creatività. Quindi la prima domanda che vorrei farti è, cos'è per te la creatività? Com'è? Cos'è per te la creatività? Ah, la creatività. È una bella domanda, però è anche abbastanza difficile, secondo me, dare una vera definizione alla creatività, perché c'è chi ti parla di arte, c'è chi ti parla di musica, c'è... Secondo me la creatività ha un senso un pochino più profondo e mi sono reso conto che, almeno per quanto mi riguarda, se mettiamo e pensiamo e personifichiamo la comunicazione e le diamo un corpo, la creatività sono le ali di quel corpo, ok? Cioè la creatività secondo me è sempre uno strumento, è come parlare una lingua non convenzionale per dire qualcosa, o almeno è quello che ho sempre notato io. Ed è anche interessante il tipo di dialogo che si instaura, perché quando vai a vedere un quadro impressionista che di base non ha un messaggio, perché non è che c'è scritto ciao, sono un quadro, la vita è una merda, o la vita è bellissima, capito? È un quadro impressionista. E la cosa bella è che a volte il dialogo che si crea è tra te e l'opera, che funziona semplicemente come escamotage, come alibi per poterti in realtà porre delle domande da solo. Quindi è una forma molto non convenzionale secondo me di comunicazione. Mi piace, molto ampia. Io vorrei anche sapere cosa ne pensa lui. Azzardo? Vai. Ah, comunque prima non l'avevo detto, questo esperimento ovviamente è la prima volta che lo facciamo ed è tutto in diretta, quindi tanta pietà. E non sento io a volte, quindi ci sta. Ehi Google, cosa è la creatività? Cattività, anche captività, prigionia, servitù, schiavitù. Beh, a volte può essere effettivamente un vincolo la creatività, una gabbia. Ottimo, ci riproverei perché magari ci dice anche un'altra cosa. Ehi Google, cosa è la creatività? Dice Wikipedia, creatività è un termine che indica genericamente l'arte o la capacità cognitiva della mente di creare e inventare. Tuttavia, esso può prestarsi a numerose interpretazioni e significati. Siamo d'accordo in questo. Bene, direi che è completa, anche precisa. Però ci ha messo un po' meno del suo questa volta. Ehi Google, ti piace la creatività? Immagino cavalli, viola che corrono su una pianura magenta. Ma è dal tonico tipo me, lui. Come risposta mi sembra abbastanza creativa, non so voi. Infatti io per quello che sono super contenta di avere l'assistente qua. Non lo so se lui è così contento. Lui? Ok Google, sei contento di essere qui oggi? Fare quattro chiacchiere mi rende sempre felice. Super diplomatico, è un gentleman. Bene, siete due super ospiti e sono veramente felice di fare questa intervista. Grazie mille. Però per adesso siamo troppo buoni. Io vi voglio un pelino sfidare. Quindi adesso vorrei fare un po' di domande a te per capire quanto lo conosci. E poi metterai alla prova lui per capire quanto conosce te. Vai, se conosce me, tocca al lupo. Allora, quello che vorrei sapere soprattutto, per iniziare, qual è il tuo rapporto quotidiano con la tecnologia? Allora, io sono un malato di tecnologia. Cioè, non ho comprato gli ultimi, diciamo, trovati tra computer e compagnia bella solo per una questione di soldi. Altrimenti li avrei comprati all'istante. Basti pensare che per quanto mi riguarda la tecnologia è anche il motivo per cui io riesco a lavorare. Molto probabilmente dieci anni fa, se non avessi avuto una videocamera, un computer, un programma di montaggio, per quanto semplice, io non sarei mai riuscito a realizzare il mio primo video. Quindi, sotto questo punto di vista, per me non solo è un modo per tenermi connesso nel privato, una relazione a distanza, quindi anche a volte guardarsi attraverso un telefono aiuta, ecco, ma allo stesso tempo è il modo in cui io lavoro. Se non esistesse internet non esisterebbe tutto quello che ho fatto e non ci sarebbero mai state le possibilità che ho avuto io. Avrei dovuto mandare, non lo so, delle tavolette di cera tramite piccione alle persone, nella speranza che qualcuno leggesse quello che scrivevano, non lo so. Ma hai parlato del tuo primo video, l'hai nominato, sono passati un po' di anni. Sì. Come è andata la prima produzione? Allora, quando ho iniziato io, la cosa che mi piace sempre dire è che YouTube non era da fighi. Cioè, è uno sfigato fondamentalmente, se caricavi dei contenuti, video, che in un certo senso parlavano di te, una cosa che adesso invece fa chiunque, anche attraverso una stories dove ti dicono breakfast, che buono, e la colazione, cioè, bene o male, siamo più abituati a condividere la propria vita, la nostra vita. Io mi ricordo che la prima volta che sono stato davanti alla videocamerina che mi riprendeva, mi sentivo fortemente stupido perché non si era creato ancora e non avevo ancora la consapevolezza che attraverso quel mezzo veramente io avrei parlato a qualcuno. Poi a livello tecnico i montaggi erano lenti, la color era sbagliato, l'audio è stato fatto con i dadi, lo lanci. Cioè, ovviamente la cosa bella è stata che YouTube mi ha permesso non solo di... YouTube è come un forno, cioè tu puoi studiare una ricetta quanto vuoi, ma se la torta non la metti mai nel forno non saprai mai se ti viene o no. E quindi diciamo che per me YouTube è tutto quello che è stato l'apparato che mi ha accompagnato all'inizio, è stato un pochino come la mia novel cuisine all'inizio, quando spadellavo. Ce l'hai? Google Home? Io sì. E per cosa lo usi nella vita di tutti i giorni? Allora, c'è la vicino al computer e una cosa per cui lo uso è... Io sono pessimo a scegliere la musica e quindi, che ne so, quando ho un mood, che ne so, mi sento triste o voglio sentire canzoni romantiche, voglio sentire roba per quando mi alleno in casa, perché ho mangiato troppo e quindi, capito, bisogna smaltire in 40 metri quadri, gli chiedo magari di selezionare delle canzoni per me, come se lo utilizzassi un pochino da DJ. E un'altra cosa che forse è quella che utilizzo di più in assoluto, perché la utilizzo almeno due volte al giorno, è quella di chiedergli di accendermi le luci di casa. Cioè io non tocco un interruttore da mesi, da mesi. Io entro, siccome ce l'ho vicino al computer, che è un po' distante, urlo... Ehi, no, 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 che poi... Vabbè, dico, ehi, mh, accendi le luci e... Ed è anche un grande metodo per fare colpo, perché di colpo le persone vedono, ho capito, che ti si accende tutto da solo. Sì, la magia. Harry Potter. Bene, direi che Guilherme se l'ha cavata abbastanza bene, adesso vediamo come se l'accava l'assistente. Ok, Google, chi è Guilherme Scilla? Secondo Wikipedia, Guilherme Scilla è uno YouTuber, attore e conduttore radiofonico italiano. Ehi, Google, quanti anni ha? Ha 30 anni. Giovanni. Troppo. Sbagliato. Vedi che sono gli errori delle macchine, naturalmente. Vabbè, ci sta, dai. Ehi, Google, dove è nato Guilherme Scilla? Ehi, Google, dove è nato Guilherme Scilla? A Roma. Ehi, Google, quali sono i suoi film? Fuga di cervelli. Dieci regole per fare innamorare e matrimonio a Parigi. Ma quindi Google è tipo la comare che sa tutto quanto. Cioè, se tu vuoi sapere qualcosa di qualcuno, vai da lui. È come un grande quartiere. Esatto. Comunque è super informato, però in realtà io volevo sapere da lui qualcosa di quelle cose non enciclopediche, insomma, quelle che è un po' più personali. Vai. Ehi, Google, è simpatico? Fammi ci pensare. Certo che sì. Vai. Ma è un grande, infatti, Google. È meraviglioso. Bene. Direi che abbiamo rotto il ghiaccio. E quindi adesso mi piacerebbe un po' parlare della tematica del festival, no? Come ti ho raccontato, il festival sceglie ogni anno una tematica per confrontarci. E quest'anno è la human intelligence, che sembra una cosa così che potrebbe spaventare, ma cos'è per te la human intelligence? È una domanda tosta, nel senso che, vabbè, cos'è per me? Quindi a posto. In realtà, se ci pensi, fino a pochi anni fa, il concetto di intelligenza sembrava che viaggiasse un pochino solamente su un binario. Cioè, tu potevi essere intelligente o non intelligente. E il più delle volte l'intelligente era quello che andava bene a scuola, quello che magari era sveglio. Ed era come se l'intelligenza di per sé avesse solamente un colore. Ed è stato solamente, effettivamente, negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio, che l'intelligenza ha cominciato ad avere delle sfumature. Cioè, esiste l'intelligenza emotiva, esiste l'intelligenza matematica, la logica. Ed è come se, in un certo senso, fosse molto legata a quelli che sono poi, diciamo, i talenti personali delle persone. E quindi per me, di base, il vero nocciolo che forse può legare tutti questi colori diversi, questo spettro, sta nella capacità che, secondo me, hanno gli uomini e basta, o forse hanno gli esseri viventi, gli uomini di più, ma a volte l'ho riscontrata anche, per esempio, nei cani, nei gatti, di la capacità di leggere attraverso, cioè, come si dice in italiano, leggere tra le righe. L'uomo è capace, tramite l'empatia, di ricostruire delle informazioni che non sono presenti sul tavolo. Quindi l'amico che con uno sguardo ti ha già fatto capire tutto quanto, o a volte quelle connessioni che si creano con persone che magari non hai mai visto in vita tua, e che automaticamente ti portano a comprendere che è davanti e a veramente trovarti in completa assonanza con la persona che è davanti. Questa è una cosa, secondo me, che l'uomo ha, che siano neuroni a specchio, che chiamateli come volete voi, ma è, secondo me, una roba unica. Ci sono delle qualità, infatti, che sono veramente solo dell'uomo. Che altra qualità ti viene, per te, veramente, proprio che lo caratterizza? Cioè, proprio dell'uomo rispetto, tipo, a una macchina. Alle macchine, sì. Cioè, quello che dici, l'uomo è veramente imbattibile. Le macchine non ce l'hanno e l'uomo veramente lo caratterizza, è un valore proprio suo. Secondo me, una delle cose che differenzia uomo e macchina, o almeno un uomo che funziona bene, se vogliamo usare questo termine, da una macchina che funziona bene, sta in uno simoro. Ed è molto divertente vedere che se uno fa l'opposto dell'altro, allora funziona bene. Perché? Perché se prendiamo una macchina, prendiamo l'assistente, prendiamo una mini, prendiamo un frullatore. Se a me arriva il frullatore ammaccato, il mio frullatore non è uguale al tuo, che è perfettamente liscio. Se le macchine non funzionano in maniera uguale fra di loro, se tutte quante non fanno la stessa cosa, una di queste è rotta. Cioè, non è che ti posso dire, guarda, ho un telefono, ma tu come dici i trovi? No, io chiamo e squilla sempre. No, invece il mio a volte squilla, a volte non squilla, ma va bene così. No, è rotto un telefono così. Gli uomini, invece, nel momento in cui lavorano tutti quanti alla stessa maniera, sono tutti quanti uguali, sono dei cliché. E secondo me non c'è niente di più noioso di un cliché quando lo incontri. E per assurdo l'uomo deve essere, per essere interessante, per essere effettivamente se stesso, perché, diciamoci la verità, quando vediamo queste persone che si comportano tutte in maniera uguale, in realtà si stanno un po' raccontando una cazzata, perché non è vero, perché ognuno è profondamente diverso dentro. Un uomo ha bisogno, ecco, di questa cosa, per essere unico e per essere, secondo me, umano, altrimenti non sarebbe tale. Ecco perché a un ragazzo glielo fai passare il oh, ma a te ti ha risposto, ma no, ma lo sai come è fatto, non ti risponde mai. E questo non lo rende rotto, lo rende ancora più umano. Assolutamente. E un altro tratto, ecco, naturalmente, per quanto possa essere banale, è la capacità di ridere, è la capacità di avere ironia, e secondo me questa è alla base proprio della vera comunicazione. L'ironia, l'umorismo in generale, sono anche delle qualità che preferisco. Sì, che se ci pensi, è anche alla base del comprendere una lingua, cioè quello che dicono sempre è se tu vuoi sapere veramente se conosci l'inglese o se conosci il francese, guardati un programma comico. Se ridi vuol dire che allora sei un ottimo punto. Ma io quasi quasi ci vorrei provare. Ehi Google, cosa ti fa ridere? Sono un fan delle barzellette, soprattutto di quelle che non fanno ridere. Dovrebbe conoscere mia mamma allora, è un po' rischioso perché può uscire qualunque cosa, ma io ci provo. Cosa? Ok Google, ci racconti una barzelletta? Era quella. Tanto io non le capisco già di mio le barzellette, quindi fa niente, andiamo oltre. Ma non gliene puoi chiedere un'altra, ti prego, non mi può fare una barzelletta che sembra che si stia schiarendo la gola. Ci riprovo. Ok Google. Ok Google. La faccio io se no in spagnolo. Ok Google. Ci racconti una barzelletta? Ecco, qual è il colmo per un generale? Sentire freddo malgrado i gradi. Vabbè. Io direi che abbandoniamo... Ho sbagliato io, scusate tutti quanti, sono mortificati. Vediamo la tematica delle barzellette perché forse ancora c'è qualcosina da migliorare. Invece tu parlavi delle qualità dell'uomo, mi piace un sacco le cose che hai raccontato, e adesso sono molto curiosa di saperne se lui anche ha delle preferite. Ehi Google, quali sono le tue qualità preferite in un uomo? Il carisma e la creatività. Yes. Anche lui è molto mood if. Mi piace questa cosa. Direi che stiamo parlando di creatività, la tua casa creativa, il tuo mondo creativo è sicuramente YouTube. Vorrei evitare di chiederti tutto il tuo percorso, le cose, ci ha raccontato un po' di cose quando hai iniziato con la produzione, ma diciamo che abbiamo un ospite che è ben conosciuto, e quindi skiperei quella parte, perché in realtà quello che a me mi dà un sacco di curiosità e che vorrei sapere è, quando tu sei su YouTube, quali sono i canali che guardi quando non sei Willy Wish? È un po' imbarazzante, perché quando io sto su YouTube, in realtà la cosa che ultimamente sto seguendo di più in assoluto è che non so perché, cioè in realtà so perché mi affascina, sono i canali di ASMR. Ora, non so se sapete cos'è. Raccontacelo tu. Allora, praticamente se non sbaglio ASMR vuol dire ozonomens, vabbè qualcosa legato al nervo uditivo e sono quei dei video nei quali le persone fanno tutto il tempo questo e parlano così. Ah, quelli che ti parlano ciò calmo. No, che mordono le cose davanti al microfono. Praticamente che cosa succede? No, mi mettono ansia, mi fa l'effetto contrario. Dammi la chance di spiegare, allora. Praticamente quello che funziona è che dovrebbe stimolare una risposta automatica del nervo uditivo che è come se ti vibrasse la testa. All'alcuni funziona, ad altri no. Ragazzi, a me funziona. Cioè, è come se mi chiamassi, è come se avessi, non so, sto cercando di non dire un vibratore in testa e cercando di dire qualcosa di un pochino più politically correct. Però, insomma, è una sensazione strana. Quindi seguo quello. Poi, in realtà, quando si tratta di persone, adoro Jeffree Star, non so se lo conoscete, secondo me è un grandissimo comunicatore, è un, diciamo, imprenditore nel mondo del beauty ed è un ragazzo che, secondo me, ha la capacità veramente, attraverso la videocamera, in qualsiasi cosa faccia, di essere un magnete, per quanto è carismatico. Cioè, può pure dire delle cose che sono antipatiche o che puoi non condividere, ma ha questa capacità di passare alta verso la videocamera. Italiani, invece, hanno Matteo Bruno, Frafrog, che sono, diciamo, due persone che secondo me si assomigliano moltissimo, anche se fanno cose diverse. Matteo è un videomaker, Frafrog è più una disegnatrice, un'illustratrice. e, diciamo, che quello che mi piace di loro è tantissimo lo storytelling che riescono a dare, a offrire e proprio la capacità, secondo me, di essere a 360 gradi, perché questa cosa non si vede tantissimo quando uno vede un video su YouTube, ma dietro, il più delle volte, è una persona che ha tantissime skill combinate fra di loro, cioè magari chi è più bravo a scrivere, chi è più bravo a riprendere, chi è più bravo a comunicare. Secondo me Matteo e Francesca sono bravi in tutto, hanno proprio un pacchetto, montaggio, scrittura, ripresa, color. Bello, belle scelte. Prometto che proverò anch'io a seguire. Guarda, te ne consiglio anche un altro paio che secondo me sono pazzeschi. Ti aggiornino a breve. Invece voglio sapere le preferenze dell'assistente per quanto riguarda YouTube. Hey Google, qual è il tuo canale YouTube preferito? Ci sono tantissimi video fantastici su YouTube. Mi sa che non si vuole scorrere. È molto diplomatico, anche perché dovrebbe scegliere alcune e lasciarle fuori altri. Capisco che può essere una sede un po' scomoda. Allora, ti faccio la domanda, la stessa magari per un po' più generica. Hey Google, ti piace YouTube? Mi piace vedere quanto possono essere creative le persone. Bene. Torna sempre sulla creatività. E questo ci piace, anche perché la creatività rimarrà sempre nel cuore delle idee. Non importa quanto queste poi possano diventare e svilupparsi a livello tecnologico, ma per fortuna quello rimarrà sempre invariato. Una delle cose, lui parlava di creatività, una delle cose che ai creativi gli mette più paura, anzi ci mette più paura, ovviamente mi ci metto pure dentro, è arrivare a quel momento in cui c'è la sensazione che le idee non ti vengono più. Cioè quella mancanza di guizzo, è una cosa che ci terrorizza, un po' un'ansia di prestazione. Tu per tenere in qualche modo accesa la fiamma, cosa fai, cose che ti ispira, che ti tiene allenato, che ti tiene vivo dentro? Bella domanda. In realtà, per quanto mi riguarda, a me la fiamma si è spenta, riaccesa, spenta, riaccesa, cioè è andata proprio in letargo. Ma come a tutti, perché noi creativi facciamo finta di essere sempre super top, ma non è così, e lo sanno tutti. Per quanto mi riguarda, quello che personalmente mi aiuta di più è guardarmi attorno. Potrei dirti sicuramente che leggere mi aiuta, io leggo tantissimo, o guardare il bello. Cioè diciamo il bello aiuta tantissimo, perché automaticamente ti fa dire addio, anch'io lo vorrei fare. Però è quando mi guardo attorno, che sia in autobus, che sia veramente accendendo il computer e vedendo che cosa succede nel mondo, è in quel momento che si crea un parere e si crea, ed è come se quello che ti circonda ti chiedesse un'opinione. Nel momento in cui hai qualcosa da dire, nel quale veramente credi, parlo di un messaggio nel quale credi tantissimo, automaticamente se hai un'indole creativa, quella roba si sveglia. Un pittore potrà vedere immagini di guerra, potrà, non lo so, vivere, anche se essere mollato, un pittore potrà essere mollato dalla ragazza. Fidati che se Adele fosse stata felice, molto probabilmente non mi avrebbe fatto piagne per Samuel I.Q. Cioè, il discorso è che di base per me è importante il messaggio, altrimenti faccio prima stare zitto. Ed è capitato. Sono sicura che a te non finirà mai quella fiamma lì. Guarda, sono stato due anni a non fare niente così, a letto a dire che la mia vita è merda. Quindi in realtà capita, ma non bisogna morire, ecco. Parlando di anni, sono dieci anni, da quando tu hai iniziato con YouTube, e devo dire che la piattaforma è veramente cambiata. Ma lo so che è una domanda super mega difficile, ma se devi azzardare, come ti immagini YouTube fra dieci anni? Allora, sicura, ora non lo so, te la butto lì, eh. Secondo me una cosa che YouTube dovrebbe assolutamente fare, uno, è quella di favorire il mondo live. Cioè trovare veramente un modo per, che in realtà è già presente in parte, facilitare la programmazione live. Quindi veramente la capacità, come se fosse una sorta di YouTube TV. Tu quindi hai la possibilità, avrai magari la possibilità in futuro di seguire dei canali che magari, guarda, sto sparando, eh. È come se tu avessi, non lo so, Willwush è un palinsesto. Tu accendi Willwush TV, automaticamente vedi quello che sta in onda in quel momento. Perché? Perché magari chi sarà capo di questo palinsesto avrà la possibilità di mettere tutto quanto di fila. E poi ovviamente la possibilità di rivederlo e quant'altro. Inoltre credo che anche a livello produttivo dovrebbe fare passi più avanti, a parte che già esistono comunque dei cortometraggi, dei lungometraggi che sono stati prodotti proprio da YouTube, ma secondo me potrebbe esserci, ecco, un avvicinamento a tutte quelle che sono le piattaforme di streaming che conosciamo benissimo. Spero più che altro, ecco, se posso aggiungere una cosa che possa comunque mantenere il seme da cui ho iniziato, che secondo me è la vera forza di YouTube, cioè che è quello di permettere alle persone di continuare a esprimersi senza che esista qualcuno che sceglie per gli altri che cosa bisogna effettivamente vedere. La cosa bella di YouTube è che sono le persone che decidono cosa è popolare. Ovviamente quando accendi la TV è stato qualcuno, il direttore creativo di Sky o di chi della Rai, che ha detto tu a quest'ora vedi questo con questo presentatore. Assolutamente. YouTube ha stravolto completamente questa roba ed è secondo me la magia e la meraviglia di questo mezzo. Anche tu sei cambiato comunque questi dieci anni e vedendoti, seguendo così tanto, tutti noi abbiamo visto questo cambiamento. Piazzardo, la seconda domanda super mega difficile. Come ti vedi te fra dieci anni? Allora, io dieci anni fa mi vedevo già con un Oscar alla metà, un attico su Piazza di Spagna, molto 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 ricco. Non è successo niente di tutto questo e quindi da lì ho un po' compreso che nel momento in cui ci facciamo delle promesse a lungo termine, rischiamo in più delle volte di rimanere delusi. Anche perché per la mia indole, vabbè, tra dieci anni lo devo fare, quindi posso saltare oggi, cioè oggi posso non fare niente. Sto cercando in realtà di vivere molto di più quello che è la parentesi del quotidiano. perché mi sono reso conto che nel momento in cui veramente uno si applica al proprio lavoro e può essere questa cosa legata a qualsiasi tipo di attività, anche il cucito, cioè se uno ha questa passione, se ogni giorno ci si mette lì con ago e filo, sicuramente è molto meglio che dire guarda io fra un anno voglio aprire un'agenzia di moda, voglio cucire, nel frattempo però ti stai perdendo a fantasticare. Diciamo che spero di essere ancora vivo fra dieci anni. Quello ci lavoriamo tutti. Poi il resto verrà, ecco. Ok, chi sa lui? Cioè come si vede fra dieci anni? Tutti ci vogliamo, ci vogliamo i uomini, si proponano le macchine, quindi perché no? Vai. Ok Google, cosa farai da grande? I figli sono una grande responsabilità, non sono ancora pronto. I figli, hai detto i figli, figli. Guarda, siamo in Google, siamo in Italia, qui già la maggior parte di persone non può avere figli, figurati sulle macchine. Vabbè, forse è colpa mia, sono andata troppo sul personale, faccio la domanda un po' più generica che forse è meglio sul futuro. Bravo, io me l'ho già scordata, non so voi, il timer. Io ho contato in realtà 28 minuti fino ad adesso. Bravo, lui ci è arrivato prima. Google, stop. È come il cane. Google, stop. Ehi Google, basta. Ok, stop, smettila, sembrivi madre. Sì, stop. Google, stop. Pensa che Stefano 30 volte me l'ha detto, caso mai tappi. No, ma perché se no noi ci siamo un pochino lasciati prendere, io gli parlavo, tu lo toccare. No, perché io l'ho chiesto del futuro, secondo me aveva paura, ma io li mi chiedo perché sono cattiva. Vai. Ok, Google. Ehi Google, sai prevedere il futuro? Me lo sentivo che l'avresti chiesto. Questa sembra proprio una domanda per la sfera di cristallo. Io l'amo, amo la sfera di cristallo. Cos'è la sfera di cristallo? Ehi Google, usiamo la sfera di cristallo? Ottimo, preparati a incontrare il grande oracolo. Vieni più vicino, più vicino, ancora. Ok, così va bene. Chiudi gli occhi e concentrati. Lentamente vedo la risposta comparire. Ora prova a farmi una domanda a cui posso rispondere sì o no. Ehi Google, ma secondo te fra dieci anni ai creativi gli bastirà ancora avere in mano un gin tonic per sentirsi super cool, anche se le hanno pagato 18 euro? La risposta al tuo quesito è Fai testa o croce per scoprirlo. Però sappi che questa sfera arriva da un negozio dell'usato. Non la prenderei troppo sul serio. Hai il coraggio di fare un'altra domanda alla sfera di cristallo? No. No. Torna quando vuoi. Il futuro è qui che ti attende. Io forse avevo quasi... Stavo per aver scoperto, non lo so, la funzione preferita di Google. Cioè sei diventato una madre. Il cristallo è la svolta della vita. Per fortuna che ti rispondi così, perché se no non avrei più avuto amici quali chiedere pareri. Sei rimasto lì con il gatto a parlare con Google per l'eternità. Va bene. Bene. Ci mancano pochi minuti, se no ti dava un po' più di dritte, però dopo volentieri, perché ho scoperto cose in questi ben quattro giorni, ho scoperto cose in Google che voglio umani. Sì. Pazzesche. Allora, mi piace un sacco che lui riesca a prevedere il futuro, però io per sfidarlo, anche perché sfido lui, così ti faccio fare anche più bella figura a te, di fare una super domandona. Ci provo? Hey Google, puoi dirmi il significato della vita? Mi spiace, al momento non so come esserti d'aiuto. Non se la sente? Ci riprovo? Hey Google, dimmi il significato della vita. Vita, forza attiva propria degli esseri animali e vegetali, in virtù della quale essi sono in grado di muoversi, reagire agli stimoli ambientali, conservare e reintegrare la propria forma e costituzione, e riprodurla in nuovi organismi simili a sé. Ti posso dire una cosa? È la domanda sbagliata. Sì. Perché secondo me, il significato della vita, è proprio nelle qualità, chi ha l'uomo è quella di porsi le domande, quindi forse l'ho fatta all'ospite sbagliato. C'è proprio farci delle domande, tutta la sfida è molto buona cosa, che ci appartiene molto più a noi. Hai anche tu scelto lui come interlocutore, non me, questa cosa mi offre. Gli ospiti sono due, lui non è riuscito, quindi tocca a te. Qual è il significato della vita? Vita, insieme animale, cos'è che ha detto? Qual è la prima? Non riesco a rispondere a questa domanda. Non riesco a rispondere a questa domanda. Gli do l'ultima chance. Ehi Google, ehi Google, qual è il significato della vita? Menti geniali cercano una risposta a questa domanda da sempre. Ok, perfetto. Quindi non appartenendo alla categoria delle menti geniali me ne tiro fuori, sto tranquillissimo. È stato un piacere. Siamo perfettamente in tempo. Era proprio quando dovevamo finire. Io sto senza occhiali, quindi... Fidati. Grazie a tutti, mi auguro che vi siete divertiti come ci siamo divertiti noi. Grazie mille. Buona giornata a tutti. Grazie 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 a tutti.